Nuova tragedia sulle strade dell'Alta Valtellina, a perdere la vita nel pomeriggio di oggi, una manciata di minuti dopo le 15, un motociclista di 48 anni di nazionalità ungherese. L'uomo, per cause al vaglio dei carabinieri di Livigno, è uscito di strada mentre in sella alla sua moto una KTM Duke percorreva la statale 301 del Foscagno, in località Campaccio, nel territorio comunale del Piccolo Tibet. Il Centauro viaggiava alle porte del Valico quando, secondo una prima ricostruzione dei militari, in prossimità dell'ultimo rettilineo che costeggia la galleria Paravalanghe in disuso, avrebbe perso il controllo della due ruote, urtando violentemente il guardrail e ripiombando pesantemente sull'asfalto. Gravissime le lesioni riportate dal motociclista nell'impatto con la barriera che delimita la strada. Immediata la richiesta di aiuto da parte degli automobilisti in viaggio che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi con il decollo dall'aviosuperficie di Caiolo dell'elicottero di emergenza-urgenza. L'equipe medica giunta sul posto, resasi conto delle devastanti lesioni riportate dal 48enne rimasto incosciente a terra, ha praticato all'uomo le manovre di rianimazione in un disperato tentativo di salvargli la vita, rivelatosi però purtroppo vano. Le sue condizioni sono precipitate, il suo cuore ha cessato di battere. Dopo l'autorizzazione del magistrato di turno, la salma del motociclista è stata ricomposta presso la camera mortuaria della Casa della Sanità di Livigno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per consentire la rimozione del corpo del 48enne e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, la statale 301 del Foscagno è rimasta chiusa per circa un'ora. Numerosi, purtroppo, i motociclisti che nel corso dell'estate hanno perso la vita sulle strade della Valtellina, solo nei pochi chilometri che separano la località di Tre Palle di Livigno e il Passo del Foscagno con il centauro ungherese di oggi sale a tre il numero delle vittime.